Sei uno schianto. Non rovinare tutto dicendo qualcosa di stupido. È anche troppo facile. Ti va di scartavetrarci in un angolo a fare palpa e strizza come si deve? È un idiota totale. Beh, non sono qui per il suo cervello. Sei una di poche pretese. Non divertirti troppo. Oh, è il momento della paranoia. Allora, perché non le dici cos'è che ti preoccupa? Coraggio. Non sei una traditrice, vero? Ma figurati. Come ti viene in mente una domanda così? Dicono che i traditori vengono nei locali come questo, che portano via le persone e gli fanno il trattamento. Ma sono soltanto delle voci. Sì, scusa, a dire il vero non so neanche io perché te l'ho chiesto.